Sì, buonasera, siamo qui con la protagonista per il Virtus Fenice di questa partita. Ha fatto due gol, uno nella prima frazione di gara, uno nella seconda. Un'opinione sulla tua prestazione e sulla prestazione della tua squadra in generale. Vai, prestazione personale assolutamente positiva, non posso essere che felice. Due gol, pareggio, quindi portiamo un punto a casa su un campo ostico, una squadra ben messa in campo e un avversario davvero difficile. La prestazione della squadra è stata una prestazione di carattere, abbiamo saputo tenere nei momenti difficili e abbiamo saputo fare un positivo quando l'altra squadra ce l'ha permesso, quindi possiamo essere felici oggi. Per il percorso che state affrontando in campionato o comunque di gruppo, come sta andando questo campionato e il gruppo come si è? Il gruppo bene, stiamo lavorando bene, dobbiamo lavorare ancora tanto, abbiamo ancora tanto da camminare. Veniamo da un passo falso lo scorso sabato, però serve anche questo per crescere, quindi ripartiamo con questo punto e dobbiamo iniziare a far arrivare anche i tre punti adesso. Va bene, ringraziamo la protagonista da parte del Virtus Fenice e ci sentiamo dopo. Siamo qui con Mastro Francesco, il capitano del SD Coccinella e volevo sapere una prestazione generale da parte della tua squadra e dal vantaggio avete purtroppo subito il secondo gol nella seconda frazione di gara. Avete abbassato il ritmo oppure è stato merito delle vostre avversarie? Beh diciamo che è stata una partita giocata alla pari, abbiamo incontrato una buona squadra che sapeva stare in campo, sapeva comunque cercarsi, giocare. Noi nel primo tempo siamo partite cariche, potevamo fare molto di più, abbiamo sprecato qualche occasione, però insomma diciamo che è stata una partita abbastanza equilibrata, ce l'aspettavamo, loro sono una bella squadra, quindi potevamo fare sicuramente qualcosa di più, però diciamo che un pareggio ci sta tutto. E invece dal punto di vista del gruppo, del vostro gruppo molto unito e anche delle tue compagnie di squadra, come hai visto sia oggi che durante anche le altre gare o durante gli allenamenti la tua squadra appunto? No, noi siamo un buon gruppo, nonostante ci sono stati nuovi ingressi nella squadra, però veniamo comunque da cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa, il gruppo c'è, siamo un bel gruppo, quindi continuiamo così. Questa partita ancora di più ci unisce perché affrontare una bella squadra e comunque portarsi un punto a casa fa sicuramente morale il gruppo, siamo soddisfatti. Ringraziamo il capitano del Coccinella e a risentirci.